alla cina non conviene ricorrere ad attacchi biologici contro gli stati uniti almeno per ore per i prossimi anni sicuramente non ad attacchi biologici manifesti perché comporterebbero una reazione nucleare degli stati uniti nemmeno però attacchi biologici nascosti che simulassero epidemie naturali perché per prima cosa gli stati uniti dato che hanno molto più soft power della cina se dicessero che sono stati i cinesi tutti i giornali lo scriverebbero quindi sarebbe la cina sarebbe in una pessima posizione seconda cosa la cina per espandere la propria sfera di influenza sfrutta la globalizzazione l'epidemia ad esempio un'epidemia anche solo negli stati uniti che rimanesse negli stati uniti sarebbe dannosa per la globalizzazione quindi sarebbe dannosa per la cina stessa perché impedirebbe il suo sviluppo economico la cina non ha bisogno di tutelare la propria egemonia militare non l'ha non è come gli stati uniti che a cui per i quali comunque conviene ricorrere ad attacchi biologici per contenere lo sviluppo economico della cina per mantenere il primato il primato globale la cina non l'ha il suo la sua priorità è la prima in questo caso si la prosperità economica è una delle priorità un interesse nazionale cinese perché fa da volano poi allo sviluppo militare allo sviluppo in ambito internazionale con le relazioni internazionali alla creazione di delle vie della sete e così via senza sviluppo economico la cina non potrebbe aspirare a diventare potenza globale ora un'epidemia è un grandissimo ostacolo allo sviluppo economico anche un'epidemia in un altro paese anche un'epidemia che restasse negli stati uniti poi figuriamoci se dovesse diffondersi altrove ad esempio pensiamo già solo un'epidemia che dagli stati uniti si diffondesse poi in africa sarebbe per la cina davvero molto dannosa economicamente ha investito tantissimo in africa invece vediamo dall'altra parte un'epidemia che dalla cina si diffondesse in africa per gli stati uniti sarebbe comunque un danno collaterale accettabile nella misura in cui riuscisse a destabilizzare politica in modo efficace la politica cinese e anche la l'economia a frenare l'economia cinese per la cina questo discorso non vale frenare l'economia statunitense non è interesse cinese gli stati gli stati uniti l'economia statunitense non è una minaccia per la cina quindi ricorrere ad attacchi biologici da parte della cina contro gli stati uniti non è una buona strategia quindi ragionevolmente ci si può aspettare che non venga condotta